Ma io mi aspetto un buon risultato perché è composta da persone tutte di grande qualità per cui io penso che tutte le persone che amano il civismo si debbano rivolgere a questa lista perché è una lista veramente civica, veramente fatta da persone che fanno parte della società che si sono impegnate nella loro attività, nella vita che hanno dato ottimi risultati.